L'aereo partito nella notte da Bangkok ha toccato terra stamani sulla pista dell'aeroporto milanese di Malpensa. A bordo c'era Vito Roberto Palazzolo, il boss ricercato in campo internazionale dai primi anni 90 e per il quale si è appena conclusa una lunga e complessa procedura di estradizione. Arrestato nel marzo del 2012 nella capitale del paese asiatico, Palazzolo aveva fatto ricorso contro le richieste di estradizione avanzate dalla procura di Palermo. Per oltre un ventennio si era rifatto una vita sotto falso nome costruendo un impero finanziario in Sudafrica, paese di cui aveva anche ottenuto la cittadinanza e che però non riconosce il reato di associazione mafiosa. Pochi giorni fa l'ultimo via libera, adesso Palazzolo è rientrato in Italia, deve scontare una condanna a nove anni di reclusione ma non si sa ancora in quale penitenziario. Le inchieste hanno accertato che il principale ruolo di Palazzolo è consistito negli anni nel riciclaggio e pulitura delle ingenti somme di danaro provenienti dai traffici di droghe e dal contrabbando di sigarette. Originario di Terrasini il boss è indicato anche come figura di spicco di Cosa Nostra negli ultimi vent'anni, mediatore tra i clan e il mondo imprenditoriale internazionale. Palazzolo era da tempo nel mirino dell'Interpol e il 31 marzo dell'anno scorso fu bloccato proprio nell'aeroporto di Bangkok in collaborazione con gli agenti italiani. Da lì è cominciata una lunga trafila per l'estradizione che si è appena conclusa.